Riapre i battenti il complesso sportivo polifunzionale di Caevano. La ASD Delfinia ha inaugurato l'inizio della stagione 2013-2014 con un open party dedicato alla presentazione di tutte le attività sportive e alla visita dei locali recentemente ristrutturati. Campi di calcetto, palestra con attrezzature di ultima generazione, una piscina ed un parco di 45.000 m2 dedicato agli eventi sono a disposizione di tutti coloro che vorranno avvicinarsi alla Delfinia. Con il rinnovo del nuovo contratto con l'amministrazione di Caevano abbiamo voluto rinnovare sia la struttura sia allargare ad altre attività per dare un segnale all'amministrazione comunale che ci è stata vicina in questa operazione di rilancio della struttura che nei fatti oramai era un po' fatiscente e quindi aveva bisogno di un rilancio e noi ci siamo dati da fare per poterla rilanciare. Come ogni anno a settembre si aprono le iscrizioni, ci sono delle offerte interessanti, abbiamo abbinato le varie attività, ci sono anche dei pacchetti che consentono di frequentare la struttura sia per i praticanti bambini e sia per gli adulti che avranno la possibilità di potersi intrattenere in quanto abbiamo dotato la struttura di un percorso esterno attrezzato con bufette e giochi per bambini mentre all'interno abbiamo creato delle aree dove si può tranquillamente socializzare e attendere gradevolmente che i figli finiscano i corsi. Lo spazio esterno, il parco esterno bellissimo con alberi secolari era ad oggi per la verità sottoutilizzato, mentre adesso il nostro obiettivo è quello di rilanciarlo, metterlo a disposizione della cittadinanza caivanese e non per eventi che richiedessero il loro utilizzo. Il nostro obiettivo è quello di far sapere alla cittadinanza caivanese e al circondario che esiste un bellissimo parco di 45.000 metri quadrati alberato e da poter utilizzare per tutti gli eventi.